Un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato ritrovato in località Spineta, Battipaglia. La bomba, che pesa 250 chili, è stata scoperta da alcuni braccianti che stavano effettuando dei lavori agricoli. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno effettuato i rilievi del caso ed inviato una segnalazione alla prefettura di Salerno. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza. Per rimuovere l'ordigno, che risulta essere molto pericoloso, sarà necessario evacuare le abitazioni circostanti in un raggio ampio d'azione che rischia di coinvolgere anche l'ospedale. Un'operazione non facile che richiederà qualche mese e che sarà coordinata dalla prefettura di Salerno.